Quelli che stai guardando sono ricordi. In questo caso riguardano un solo individuo. Questo è forse il ricordo più importante da me raccolto. Vorrei che lo vedessi. In tutti gli anni che Tom è stato qui non ha mai ricevuto visite. Lei è il medico, vero? No. Chi è lei? Io sono come te, Tom. Sono diverso. Lo dimostri. Posso spostare gli oggetti senza toccarli. Posso fare accadere cose brutte a chi è cattivo con me. Parlo anche con i serpenti. Loro mi trovano. Sussurrano cose. Signore, l'ha capito? Allora. Di aver incontrato il mago oscuro più pericoloso di tutti i tempi? No.